Un'attivazione molto bella perché oggi era un giorno molto importante, abbiamo raggiunto l'obiettivo che era di vincere questo campionato quindi sono molto contento. Grande prestazione ma anche questa è stata una partita difficile, è giusto il pareggio quindi non è stata facile. Sì, pur uguale a contro il San Marino sapevamo che loro si giocavano tutti perché stavano lì giù per la retrocessione ma noi dovevamo fare la nostra partita quindi l'abbiamo fatto e meritato la vittoria e anche questo campionato. Guarda lì perché magari io non sapevo perché io stavo qua e stavo fuori dalla giocata quindi non saputo niente, secondo me perché il San Gessario stava perdendo, mi sa che era una cosa del genere ma non ci doveva importare nulla, noi dobbiamo fare la nostra partita, dobbiamo vincere e basta. E' il momento più bello dell'anno questo oppure sono stati altri momenti secondo te fondamentali? No, questo è un momento molto importante, ripeto, è molto importante per me perché non pensavo di trovarmi con un gruppo così bellissimo quindi pure la tifoseria mi ha appoggiato sempre, è sempre stato vicino e quindi niente. Il tuo futuro sempre è sempre detto? Spero, spero di sì, spero di sì ma non dipende da me. Va bene, grazie. Grazie a voi. Prima promozione? Eh? Ma chi mi ha promozione della tua carriera o altre promozioni? No, prima, prima. Prima perché in Argentina ho perso la semifinale in Argentina.